Un ventenne Vincenzo Marino di Villapiane in provincia di Cosenza è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sul vecchio tracciato della statale 106. Il giovane, che viaggiava a bordo di una Citroen Saxo mentre percorreva l'arteria, oggi provinciale 253 nei pressi del fiume Satanasso, per cause in corso ancora di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura finendo con l'impattare contro una delle strutture di un ponte. Sul luogo dell'incidente stradale, oltre ai carabinieri, sono giunti anche i vigili del fuoco i quali hanno messo in sicurezza la vettura fino alla sua recupero, i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. I militari hanno avviato nel frattempo anche gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto.